Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, non so se non mi vedete bene ma oggi non giochiamo, oggi faremo un video a mare e non lo so di fare un video a mare non lo so perchè mo lo so detto a mare non ci vai perchè lo so se no faccio un altro video, aspettate ragazzi e dici, io non so a salire, io non so a salire, io non so a salire, io non so a salire a picco